La sera camminando stavo fischettando, mi ferma una bionda, Maria che bomba, mi apre lo sportello, mi dice in cana su, in cana, in cana, in cana, che non te posso più. Da casa mi scappai, perché mi ero stufato, mio marito era impotente, non mi faceva niente, appena Andi Curcamo si mentiva a rontare, perciò fra me e Iddu non c'era niente fare. Succedì un minuto, che conti non ci fici, ero insieme a Idda, contenta e felice, che baci, che carinzi, non mi stancavo mai, ero proprio inaudito. Sapete che vi dico, ero un uomo travestito, che schifo! Grazie. Grazie. Grazie.